Il caldo record delle prolungate ondate di calore, lo stress idrico e poi le grandinate improvvise. La sfida dei cambiamenti climatici che si abbatte sull'agricoltura non risparmia i nostri vigneti, ha le prese con maturazioni sempre più precoce e vendemmi anticipate. Risultato, vini troppo zuccherini, poco acidi e molto alcolici. Per limitare l'impatto dei cambiamenti climatici, dalla vigna al bicchiere, nasce New Vineyard, tradotto dall'inglese Nuovo Vigneto. Un progetto pilota finanziato con i fondi PSR Marche e lanciato due anni fa dall'Agenzia Marca di Ancona della CIA e da Arca SRL in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche. A testarlo sul campo due aziende bio che hanno sperimentato un nuovo sistema di allevamento della vite chiamato Icane, con notevoli benefici. La forma Icane, che significa appunto alto tralcio, perché la modifica è consistita nell'aumentare la distanza del capo a frutto delle viti dal suolo. Questo comporterà anche un rallentamento della produzione, perché avremo una chioma bassa, spessa, con radiazione diffusa all'interno e quindi ci può aiutare a decelerare questo processo di maturazione che negli ultimi tempi è sempre più anticipato. Per proteggere invece le viti dalla grandine, ma anche dall'eccessivo irraggiamento solare, largo anche all'uso di reti schermanti ed antigrandine, mentre per risolvere il problema della scarsa disponibilità di azoto per le piante il progetto prevede l'adozione di nuove tecniche di inervimento. Bisogna aggiungere all'inervimento naturale delle piante leguminose che portano ad incrementare il contenuto di azoto nel terreno che deve essere a disposizione anche della pianta di vite. E i benefici del progetto non si sono fatti attendere? Parola di chi, da un paio di anni, lo sta testando sul campo. Abbiamo notato un aumento della qualità e della quantità delle produzioni e inoltre abbiamo anche un effetto positivo sull'ambiente, sull'ecosistema che cerchiamo insomma di ricreare un ambiente più simile all'ecosistema naturale. Dalla vigna alla tavola, il progetto porta vantaggio anche al consumatore. Se infatti i cambiamenti climatici ormai spingono verso la produzione di vini sbilanciati e troppo alcolici, l'introduzione delle nuove tecniche previste da New Vineyard inverte la tendenza per andare incontro anche alle richieste del mercato. Questo si traduce in un migliore equilibrio del vino con minore quantità di alcol e quindi una maggiore tenore di acidi organici che vanno a dare una maggiore freschezza, anche un maggiore equilibrio e longevità al vino stesso.